Ecco la notte brava dei vandali che hanno danneggiato le strutture sulla spiaggia della Stella Maris, la casa per ferie della diocese di Treviso a Bibione in zona Pineda. Ripreso dalle telecamere di videosorveglianza si vede il gruppo di ragazzi e ragazze giovanissimi che festeggiano, come lo si intuisce, quando entrano nel campo della telecamera le sedie rotte e lanciate sulla spiaggia a beneficio dei telefonini con flash che scattano a ripetizione a scoprire il disastro. La mattina seguente i volontari arrivati per sistemare ed aprire il chiosco. Hanno trovato una quindecina di sedie di plastica rotte, 4-5 tavoli, buttato giù una stazionata di plastica che serviva per dividere le parti dei bagni. Hanno trovato tutto rotto insomma hanno tentato di buttare giù una porta con calcio che ci sono riusciti. Danni per qualche migliaia di euro ancora in corso di quantificazione e ci è andata pure bene, commenta amareggiato il direttore. Vandalismi che fanno ancora più male se si pensa che la struttura è nata soprattutto per un turismo inclusivo rivolto a disabili, famiglie e anziani che qui possono trovare un alloggio privo di barriere architettoniche ma anche una struttura che si occupa dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità. La settimana scorsa avevamo la situazione del Domino Bello e della Dioci di sempre, erano 50 ragazzi disabili con 100 giovani che li accompagnavano, hanno fatto una settimana. Adesso abbiamo famiglie, una cooperativa sociale che viene qua e la struttura è stata pensata per la disabilità. Il raid vandalico dell'altra notte non è il primo e non ha interessato solo Stella Maris. Non hanno fatto solo da noi, lungo il viale c'erano tutti i bidoni del Mugici roversiati in mezzo alla pista ciclabile, purtroppo non è la prima volta che succede né a noi perché è successo anche l'anno scorso ma neanche ai nostri vicini, a Bibione Spiaggia o Bibione Mare che sono le due spiagge che confinano con noi, anche loro subiscono questi vandalismi da parte di zone di nord, che molto spesso, qualche volta li hanno trovati, spesso sono anche minorenni purtroppo.